Alcione si svolge dal 24 al 26 di gennaio il secondo congresso nazionale di sinistra, ecologia e libertà. È un congresso molto importante per il nostro partito in cui noi dovremmo decidere qual è la nostra collocazione nella sinistra italiana, qual è il nostro rapporto per la ricostruzione di un centro-sinistra in rapporto con il nuovo PD di Renzi, con quale collocazione e infine la nostra posizione rispetto alle prossime elezioni europee e la collocazione internazionale conseguente rispetto alle famiglie della sinistra europea. Penso che sarà un momento eccezionale e di grande importanza per decidere nei prossimi mesi quali saranno le linee guida di sinistra ecologia e libertà nel nostro Paese.